Buongiorno, se non faccio aspettare i bambini. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, nel 69, Kinder Cioccolato nel 69, Kinder Sorprese nel 70, cioè Kinder Sorprese è più vecchio di me, meravigliosa sta. Allora Presidente, qua abbiamo, taglia 50. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Stiamo facendo cose più importanti qui stanno mettendo gli scatti qui stanno mettendo un po' e qui stanno mettendo un po' Grazie. 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 Andiamo di qua. Andiamo di qua. Grazie.